Savino Solution nasce nel 2013 come soggetto giuridico e si occupa fin da subito di digitalizzare i processi aziendali. Siamo diventati poi leader in Italia nella Digital Automation Trust. Digital sta ovviamente per Digital Transformation e la nostra ambizione è trasformare tutti i processi aziendali da analogici in digitale, rendendoli più efficienti, più efficaci e più sicuri. Automation sta per l'automatizzazione dei processi aziendali attraverso una tecnologia nuova che si chiama Robotic Process Automation, quindi la possibilità di automatizzare attraverso robottini software molti processi aziendali che sono ripetitivi e inefficienti. Trust sta per Compliance, quindi tutto il mondo che ruota attorno al digitale in termini di normativa. La differenza fondamentale di Savino Solution rispetto alle altre aziende è l'applicazione di un metodo brevettato, metodo Savino. Cinque step permettono di digitalizzare qualunque processo di business perché partono da una situazione dell'esisa attuale attraverso un ragionamento e re-ingegnerizzazione del processo attuale in un to be che rispetta non solo l'efficienza e l'efficacia del processo da digitalizzare ma anche la sicurezza, garantendo anche il cambiamento sia delle risorse in termini di mentalità al fine di creare quel digital mindset che è il metodo allo scopo di realizzare in ogni tipo di azienda. Oggi più che mai è fondamentale digitalizzare la propria azienda. Dobbiamo avere certezza assoluta che quel documento digitale, quel dato digitale rispettano le normative europee ed italiane e siano opponibili a terzi. Le tecnologie blockchain sono il futuro della digitalizzazione delle nostre imprese. Il nostro brevetto ci ha permesso di diventare leader per garantire la certezza del dato e del documento. Quindi non solo tracciamo la filiera di qualunque tipo di azienda ma garantiamo che sia certificata attraverso la blockchain e attraverso i nostri asset relativi alla Digital Automation Trust. Ci sono tre benefici fondamentali nel digitalizzare i processi aziendali attraverso la competenza di Savino Solution. Il primo è che guardiamo l'efficienza del processo, il secondo è l'efficacia e al terzo è la sicurezza. Il beneficio enorme è che Savino Solution garantisce ai propri clienti non solo il raggiungimento di un processo di digitalizzazione ma è anche normativamente corretto perché soddisfa le normative europee e italiane. Il nostro slogan ovviamente è Digital Automation Trust, digitalizzare le nostre aziende attraverso l'automazione e la rispondenza alle normative.